Buonasera, parliamo delle elezioni, parliamo della vittoria di Trump. Alla fine a consuntivo, Giulio mi fai vedere la mappa degli Stati Uniti d'America? Ecco qua, questo è il risultato finale in buona sostanza. Mi sembra a dir poco un trionfo, quindi bellissimo, fantastico per chi tiene a Trump, una tragedia per chi invece sperava che la Kamala ce la facesse. A proposito di questo, prima di iniziare la nostra discussione, abbiamo fatto una specie di piccolo mix di reazioni composte, veramente composte devo dire, di elettori dem negli Stati Uniti. È pieno il web di questi video, però è fantastico perché indica il livello veramente di scontro politico che c'è stato. Giulio fai vedere il piccolo video che abbiamo montato insieme, mi farò vedere che umanità varia, fantastica, veramente, a volte si incontra sul web. Non sono più insieme, ecco anni e solo penso che non qualcuno non per l'oneste, perché non ho nessun ritardo. Perché? Bish, HEQUE Oients Hope your day gets better SHUT THE FUCK UP Positive energy SHUT UP! YOU DON'T UNDERSTAND ENGLAND! To the united states! The united states! The United States President Donald Trump Yeeeeeaaaaaaaaaahhh You're the president of the united states! The U.S. President is Donald Trump ecco questa è abbiamo messo alla fine chi ha vinto chi non ha vinto il trionfo diciamo che ci sono state delle reazioni a dir poco scomposte però in effetti possiamo dire che insomma è già un po' di anni che vediamo questo approccio veramente al di là della razionalità nell'affrontare i risultati che poi sono risultati democratici il trionfo c'è stato bisogna dire che però a un certo momento anche a un certo tipo di risposta degli intellettuali o degli uomini che pensano di essere degli intellettuali di sinistra in Italia insomma c'è stato che voglio dire non si sono messe a urlare ma poco ci manca una delle cose più belle che ho letto sul web Giulio mi fai vedere quella frase strappolata da Michele Serra che secondo me è proprio significativa eccola qua Trump è il capo patologico è già il capo patologico di un elettorato per metà incapace di accorgersene per metà entusiasta di votarlo perché è patologico a sua volta ecco c'è praticamente io ragazzi questo non è un urlare su TikTok ma poco ci manca dal punto di vista del senso della reazione che cosa significa che analisi è che insulto è che modo è di approcciarsi allora fatta questa breve premessa un po' anche di colore di folklore grazie Giulio torniamo a noi dai partiamo da Alessandro Alessandro insomma due considerazioni io ne ho diversa della verità però insomma lascio parlare voi su queste lezioni su questo risultato eclatante che secondo me nessuno si aspettava così eclatante vai Ale sì io credo innanzitutto che sia un risultato che dimostra ancora una volta come il mainstream cerca di veicolare messaggi diversi rispetto poi a quello che è il sentore e il sentire della popolazione reale anche gli ultimi sondaggi davano comunque la Harris riguardavo proprio oggi li riguardavo oggi un punto avanti la grande media dei sondaggi e poi ha vinto Trump di più del 3% dei voti anche a livello proprio generale quindi ha vinto anche a livello di voto di singola persona non solo a livello di voto di grandi elettori quindi certamente quello di Trump è un trionfo certo dall'altra parte io lo sai mi occupo più di geopolitica e credo che bisogna essere più pragmatici né esultare né disperarsi perché proprio oggi ho finito di scrivere un articolo che uscirà nei prossimi giorni sulla politica estera sulle linee strategiche di politica estera degli Stati Uniti durante gli anni io diciamo sono partito già dal 1823 con la dottrina Monroe che sostanzialmente diceva l'America agli americani per americani venivano intesi gli Stati Uniti d'America ecco da quella dottrina del 1823 quindi sono passati più di 200 anni sia democratici sia repubblicani hanno portato avanti l'idea che l'America Latina e Caraibi erano il giardino di casa il cortile di casa degli Stati Uniti durante la guerra fredda il nemico numero uno era l'Unione Sovietica si partì dal 1947 con la politica del contenimento e da lì siamo andati avanti repubblicani e democratici hanno considerato entrambi l'Unione Sovietica come il nemico numero uno da abbattere abbiamo visto dopo il crollo dell'Unione Sovietica l'idea della difesa dell'unipolarismo quindi degli Stati Uniti come potenza egemone del mondo e io credo che tutto lascia pensare che anche se Trump è vero che come retorica è più isolazionista ma non accetterà mai di far arretrare gli Stati Uniti come potenza egemone nel mondo tant'è vero e qui finisco il primo intervento il cosiddetto pivot to Asia quindi l'idea che il fulcro il centro dell'interesse statunitense nel mondo è l'Indo Pacifico in particolar modo il ruolo della Cina quindi la necessità di contenere la Cina e di considerarla come il nemico numero uno degli Stati Uniti idea diciamo che nasce e viene messa su carta nel 2011 con Obama ma se andiamo a vedere le dichiarazioni dei vari presidenti che dopo Obama si sono succeduti e lo stesso Trump vanno a considerare la Cina come il nemico numero uno quindi in perfetto stile di rispetto della posizione delle linee di politica estera strategica degli Stati Uniti che vengono condivisi sia da repubblicani sia da democratici quindi insomma ti sei focalizzato su questo aspetto proprio di quello che farà poi Trump che è un po' la domanda che hanno cominciato a farsi tutti immediatamente dopo che era data per certa la sua elezione cosa farà cosa farà però insomma io mi sono anche posta delle altre domande il perché di questa vittoria di Platante il perché della sconfitta soprattutto di Kamala Harris perché in realtà poi l'ho legata a un'altra serie anche di sconfitte che riguardano ancora comunque insomma la nostra realtà occidentale diciamo così non so quindi aspetto che voi mi diciate poi al limite alla fine vi dico io che cosa su che cosa ho riflettuto Massimo rispetto a quello che diceva anche Alessandro no? i rapporti con l'estero con l'occidente con l'Asia ti sei posto qualche domanda ti senti diciamo ti hai riflettuto su questo aspetto o ritieni che sia diciamo marginale rispetto soprattutto a quelle che saranno le politiche interne di Trump? ma allora io credo che intanto la prima cosa che dobbiamo fare non aspettarci come molti stanno facendo stanno sperando che sia il salvatore di altre nazioni cioè sicuramente Trump penserà all'America e all'America agli USA e non non sarà il nostro salvatore tutto quello che possiamo fare è se avessimo diciamo una classe politica non discappati di casa è di sfruttare il momento perché comunque degli equilibri si sono modificati se riuscissimo se avessimo una classe politica degna potremmo cercare di sfruttare questo momento per cominciare a fare i nostri interessi ok perché sicuramente Trump forse più di Biden dal punto di vista economico cercherà non di punire l'Europa come ha fatto Biden facendoci entrare sostanzialmente in una guerra contro la Russia e costringendoci sostanzialmente da vero amico a comprare il gas da lui a cinque volte il prezzo che lo pagavamo dai russi distruggendo praticamente l'industria tedesca il nostro indotto dell'industria tedesca per farsi gli affari suoi quindi non è che adesso io ho letto non so una cosa che mi ha assolutamente stupito è stato leggere sul giornale sul giornale punto it quindi non un giornale di sinistra un articolo di di Fabri che praticamente diceva che era molto meglio Biden che appena era stato eletto aveva detto che sostanzialmente col suo America is back avrebbe avuto dei rapporti con l'Europa molto più amichevoli mentre invece con Trump col suo America first ci troveremo a essere praticamente schiavi degli USA come se non fosse assolutamente successo nulla in questi ultimi dieci anni cioè questo Fabri non si ricorda assolutamente delle frasi tipo fuck Europe di una democratica ok come non si ricorda che è l'America sono gli USA con la Nato che ci hanno trascinato in questa guerra con la Russia che ci sta massacrando dal punto di vista economico tra l'altro poi si preoccupa anche del fatto che la UE così sarà abbandonata ed essendo abbandonata i russi cioè in questo articolo veramente sembra scritto da Repubblica su Repubblica non sul giornale punto it si preoccupa del fatto che i russi faranno un boccone di tutti noi popoli europei come se 160 milioni di russi che vivono praticamente in un continente ok perché non è un paese è un continente quello pieno di risorse venissero a impelagarsi nella UE che è senza risorse con un sacco di problemi con un sistema valoriale che ormai è andato a ramengo quindi non riesco proprio a capire questo Fabri dove abbia preso gli spunti per le sue convinzioni cioè o questo ha dimenticato completamente gli studi di storia e di logica e sarebbe il caso allora che li riprendesse oppure non me lo spiego quindi questo dal punto di vista poi dei rapporti con non so con le guerre per esempio vabbè Trump è stato il primo presidente americano che non ha fatto guerre però non vedo che ci saranno non credo che ci saranno grandissimi cambiamenti forse per l'Ucraina ok per l'Ucraina probabilmente cercherà di arrivare a mettere al tavolo negoziale russi e ucraini non so quanto i russi eccetteranno perché chiaramente il tavolo negoziale intanto partirà da quanto i russi hanno già conquistato perché non penso proprio che Putin possa anche rispetto alla sua opinione pubblica dire beh adesso torniamo indietro rispetto ai territori che abbiamo conquistato lasciandoci migliaia di uomini ok quindi non potrà assolutamente farlo per cui lì bisogna vedere quanto la Russia sarà disponibile a sedersi a un tavolo fin tanto che non avrà raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissa che per loro sono anche obiettivi esistenziali quindi non sono molto negoziabili come obiettivi per quanto riguarda invece il Medio Oriente credo che cambierà poco e nulla perché sicura a parte che tutti i presidenti degli Stati Uniti devono passare per le forche caudine dei sionisti quindi di penso proprio che non cambierà praticamente nulla non credo né che peggiorerà né che migliorerà probabilmente Israele continuerà a farsi gli affari suoi fin tanto che qualcuno magari tipo l'Iran non farà venire Israele a più miti consigli non lo so comunque non credo che sarà che vedremo dei grandi cambiamenti cioè non credo proprio che Trump cercherà di contenere Netanyahu vedremo vedremo perché invece io sono dell'opinione che su quel fronte lì ci sorprenderà ma non tanto perché voglia in qualche maniera colpire gli israeliani quanto perché probabilmente valuterà che cosa gli conviene perché esiste anche una fetta di popolazione israeliana e comunque insomma di intelligenza israeliana nel mondo che non guarda volentieri di buon occhio Netanyahu quindi non lo so tutti dicono così ma non so se sarà proprio così vedremo vedremo lo scopriremo vivendo a pochissimo secondo me Giampaolo che cosa hai pensato quando hai visto questo voto questo rosso avalanga sugli Stati Uniti d'America dai il primo pensiero che ti è venuto in mente ma guarda faccio lo stesso commento che ho fatto su Facebook cioè il discorso è che evidentemente la gente si è stancata di sentirsi raccontare che gli uomini possono avere le mestruazioni perché quello è uno dei tanti punti senza senso delle ideologie che accompagnano i Dem e fondamentalmente i Dem hanno fatto una campagna elettorale senza nessun tema sensibile sul futuro degli Stati Uniti sui conflitti in politica estera sulle politiche monetarie degli Stati Uniti nessun tema rilevante se non Trump è il nemico numero uno della democrazia quindi non deve vincere tanto io penso che qualsiasi persona non vuoi essere offensivo però qualsiasi persona normodotata non avrebbe dato il voto a un personaggio che sostanzialmente aveva nulla da dire quindi ha vinto Trump ma sono assolutamente d'accordo con Massimo e con Alessandro cioè il fatto è che chiaramente lui farà delle politiche incentrate sugli Stati Uniti e come è accaduto in passato gli Stati Uniti se ne fregheranno altamente del resto del mondo e quindi riportare l'America ai fasti di un tempo se dovesse implicare anche la sofferenza di altri paesi non sarà assolutamente un problema per gli Stati Uniti come è sempre stato io penso che visto che sono stato di recente negli Stati Uniti e mi è sembrata una realtà comunque in alcuni stati ancora recuperabile penso che ci sarà una ripresa del comparto del manufatturiero e questo è sicuramente positivo per gli Stati Uniti è stata fatta una politica negli ultimi 20 anni di come dire disfacimento del tessuto industriale portando tutto all'estero e praticamente cancellando il know-how degli Stati Uniti quello che secondo me anche ha convinto i mercati soprattutto è stato proprio il fatto che Trump ha promesso poi bisogna vedere se lo farà ha promesso di recuperare un po' di competitività industriale perché è evidente a tutti che ormai gli Stati Uniti non sono più il centro economico del mondo e in qualità di unico di fatto oppositore del blocco dei BRICS loro non possono permettersi di avere delle capacità industriali sotto tono come hanno negli ultimi anni quindi io penso che la gente abbia votato in parte perché stanca di tutti questi ritornelli senza senso dei dem e in parte con una prospettiva di speranza per il recupero di una grande capacità industriale che avevano gli Stati Uniti nel passato sì è un elemento poi sociale sì culturale e sociale ma infatti ci torniamo perché è stata una delle grandi leve sulle quali ha puntato anche Elon Musk cioè Musk nel momento in cui ha abbracciato la causa di Trump soprattutto appunto su X ha veramente martellato da mattina a sera sui grandi temi etici morali ha abbastonato il gender ha abbastonato tutta la cultura Walker Elon Musk è andato giù pesantissimo ma è chiaro che lì c'era una sinergia di intenti evidentemente tra Trump e Musk che voleva andare a colpire una certa cultura che si stava di sinistra che si stava dimenticando le vere cause le cause della povera gente degli operai della classe media anche quindi sicuramente è vero quello che dici Alessandro ma dunque è la fine della globalizzazione il microfono io non ti sento non so se voi lo sentite senti ok grazie no io non credo che un'elezione di un presidente degli Stati Uniti possa effettivamente definire la fine o no della globalizzazione certamente la globalizzazione ha subito una battuta d'arresto se intendiamo appunto la globalizzazione esistita fino al 2022 perché questo scontro forte che già per la verità è iniziato in precedenza ma che poi ha trovato sfogo definitivo diciamo nel 2022 con l'inizio del conflitto duro diciamo fra Russia e Ucraina sostenuto dall'Occidente politico è chiaro che è lì che poi diciamo questo colpo è stato subito dalla globalizzazione che in 30 anni era riuscita comunque a prendere a prendere veramente piede in modo molto deciso ad oggi lo scontro è certamente fra quelli che in qualche modo tendano a difendere la globalizzazione che poi diciamo è la seconda faccia della stessa medaglia cioè l'unipolarismo la globalizzazione si sviluppa e stende le ali nel momento in cui gli Stati Uniti rimangano come unica superpotenza che detta le regole del gioco in tutto il mondo quindi da una parte ci sono quelli che difendano questo sistema dall'altra chiaramente ci sono tutti quei paesi a partire dalla Russia dalla Cina ma anche molte potenze regionali come l'Iran per certi versi anche la Turchia anche se è membro della Nato ma anche in America Latina vediamo vari paesi come il Venezuela per esempio che aspirano appunto a un mondo moltipolare che non è altro che un mondo dove diciamo ci sono vari poli esistono vari poli di una forza pressa poco uguale o comunque in grado di poter dire la loro nel panorama globale certamente geopolitico ma che riprende e che ingloba diciamo anche la questione economica e poi diciamo la globalizzazione si innesta proprio su quello la prima questione fondamentale è l'economia e poi chiaramente si è sviluppata però avendo preso piede in modo così forte e a guida statunitense ha visto poi nell'ideologia che poi è stata una vera e propria ideologia è una vera e propria ideologia quella liberale prendere piede in varie parti del mondo io credo che chiaramente ci sono delle battute d'arresto rispetto a quello che abbiamo visto pre-2022 ma non è l'elezione di Trump in sé per sé che porta poi alla fine o alla battuta d'arresto definitiva della della globalizzazione ecco penso che per esempio il vertice di Kazan e dei Bricks sia stato da questo punto di vista molto più significativo sì sì ma infatti poi la faremo una trasmissione proprio sui Bricks su questo movimento insomma alla fine il dollaro è ancora la valuta principale di scambi internazionali quindi resta comunque una posizione preeminente vedremo come si muoveranno insomma come si muoveranno gli stati come si muoverà la Cina soprattutto insomma ma anche la Russia perché alla fine la Russia lavora con la Cina nel tentativo di togliere questa preminenza economica vedremo se ci riusciranno vedremo Trump come si muoverà però se quella è la cosa Massimo che a me diverte tantissimo di tutta questa faccenda ti spiego noi abbiamo parlato da anni sono anni che parliamo di questa elite finanziaria globalista di cui sappiamo anche i nomi diciamo i nomi insomma chi sono chi non sono che rappresentano per noi diciamo un vero problema perché hanno una potenza di fuoco tale per cui è difficile sono quasi più potenti degli stati ormai e sono uomini che arrivano da vari settori anche finanziari e ognuno può immaginare esattamente di chi si parli ma la cosa bella è che si muovono quasi tutti nell'ambito demo o sinistra d'accordo cioè si muovono in quell'ambito lì o cercano di influenzare le politiche degli stati europei cercando di spingere verso politiche diciamo di sinistra ok la cosa meravigliosa è che nel momento in cui ci si mette uno che effettivamente è l'uomo più ricco del mondo cioè quando ci si mette ancora un uomo ancora più ricco di loro succede che un po' li li schiaccia perché questo è quello che è successo e parliamoci chiaro cioè la sensazione è stata quella un po' come vedere i film dei cartoni antigiapponesi quando ero ragazzina c'era sempre qualcuno più grande poi arrivava Goldrick che era più grande di tutti e li disfaceva ecco io ho avuto un po' questa sensazione sì siete tutti ricchi ci 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 Jeff Bezos è stato un po' più furbo degli altri secondo me però tu arriva maschio oltretutto tu sai ha guadagnato l'impossibile mi risulta che abbia guadagnato io adesso non lo so se ho letto bene decine di miliardi di dollari in una giornata per le conseguenze diciamo dell'inalzamento dell'attività in borsa per cui voglio dire ci ha guadagnato anche da questa cosa cioè c'è sempre qualcuno più forte non so come dire c'è sempre qualcuno più potente c'è qualcuno più forte e in quel giochino sono rimasti invischiati chi quel giochino in qualche modo lo avevano iniziato non so se è chiaro il mio concetto mi sarebbe piaciuto sapere da te se ci avevi pensato a questa cosa qua la cosa che hai detto mi dà uno spunto su quello che ho reputo un deficit di democrazia enorme cioè nella campagna che hanno appena fatto negli USA la Kamala Harris non sbaglio ha raccolto un miliardo e mezzo di dollari un miliardo e mezzo di dollari Trump ne ha raccolti meno ma comunque stiamo parlando di centinaia centinaia di milioni di dollari questo cosa dimostra dimostra che senza Massimo scusami ma molti meno io ho letto qualcosa tipo 350 milioni cioè terzo rispetto alla Harris e prima ancora a Biden sicuramente un elemento un elemento dal punto di vista mediatico che l'ha molto avvantaggiato è stato Musk quello sicuramente però il problema che volevo sottolineare è che se la politica la fai solo con i soldi è chiaro che la politica la possono fare solo le elite quindi noi possiamo solo sperare tra scegliere l'elite che vinca l'elite meno cattiva dell'altra che ci faccia stare un po' meglio sostanzialmente non è bello questo un deficit di democrazia allucinante se ci pensi nell'antica Grecia c'era addirittura la polizia che doveva portare i greci che non volevano votare a votare qua invece stiamo parlando di elite che se la fanno se la suonano se la disfano come vogliono ok come già ho avuto occasione di dire la nostra speranza è che l'elite finanziaria in questo momento abbia rotto un po' troppo le scatole all'elite che si occupa dell'economia reale Trump bene o male farà sicuramente anche finanza perché a quei livelli fanno finanza però si occupa anche di economia reale e probabilmente magari è sostenuto da una parte delle elite che si è stufata delle elite finanziarie che gli stanno mangiando anche poi l'economia reale perché attraverso la finanza poi anziché sostenere l'economia reale se la stanno mangiando e quindi probabilmente temono anche di essere messi da parte dall'elite finanziaria quindi direi che il problema vero è che senza soldi non fai politica anche il finanziamento pubblico ai partiti che qua in Italia tanto condanniamo non vogliamo il finanziamento pubblico ai partiti però il rovescio della medaglia è che allora la politica la possiamo fare solo i Berlusconi se ci pensate come Berlusconi è arrivato in politica in pochissimo tempo ha messo su un partito che è andato al governo ma in un attimo ho conosciuto gente che ha fatto parte di quel partito c'erano dei dipendenti non erano delle persone dei militanti erano dei dipendenti e come i dipendenti venivano trattati e come i dipendenti si comportavano c'era una grande azienda ha creato una grande azienda come partito e ha fatto quello che ha fatto ma puoi farlo solo con i soldi è corretto questo? non so sì il problema il problema si pone il problema si pone cioè c'è da sperare che quello ricco sia anche un ricco sufficientemente per bene ecco questo è un po' banalizzando ma banalizzando ma è così quindi sì scusami Massimo dicevi no dico una speranza un po' piccolina piccinina piccinina sì insomma bisogna così provare a essere positivi però a questo punto Gian Paolo il discorso qual è in Italia cioè cosa hai visto tu in Italia dopo questa vittoria quali sono le cose che ti ti sembra che siano stati più interessanti da sottolineare cioè le cose che è qualcosa che magari ti ha fatto anche sorridere ne ha fatto sorridere moltissima della verità però volevo sapere la tua opinione l'Italia rispetto a questa elezione allora sicuramente una cosa che è balzata all'occhi penso a tutti quanti è il fatto che comunque i media in Italia hanno dato una risonanza a tutta la campagna come se noi fossimo negli Stati Uniti questa cosa è devastante se ci pensate perché in realtà quella dovrebbe essere l'elezione del presidente di uno stato estero eppure noi l'abbiamo percepita ogni giorno soprattutto nell'ultimo periodo come l'elezione del nostro presidente che poi nella realtà è così se ci pensate perché nel fine conti siamo una colonia statunitense però questa cosa è come dire è il sintomo di qualcosa di più profondo di marcio che sta la radice è un'altra cosa che ho notato con molta soddisfazione è il fatto che tutta una certa frangia che poi è nei fatti sia sostenuta che anche finanziata diciamolo dai dem statunitensi non ha fatto altro che gettare fango non tanto su Trump ma sugli elettori di Trump ho letto un articolo di recente che diceva Trump è stato votato dai maschi giovani bianchi dai latini dalle donne come se in realtà il tono dell'articolo era come dire vabbè è la plebaglia che non capisce un cazzo che vota Trump noi sofisticati altologati votiamo dem questa cosa qua è un atteggiamento tipico di quella frangia lì che io trovo altamente fastidioso più che altro perché è intrinsecamente antidemocratico è quasi classista e non si addice assolutamente a quello che dovrebbe essere un elettorato di sinistra ma questa è l'ennesima prova che loro essendo sostanzialmente dei liberali globalisti sono in realtà un partito di destra cosa che io ripeto da anni non ci crede mai nessuno ma poi alla fine è così non sostengono assolutamente il keynesismo quindi non hanno assolutamente nessuna attitudine socialista se vogliamo sono più orientati a uno schema molto molto simile a quello elitario perbenista americano e quindi il fatto che questi personaggi denigrino le persone a me ha fatto piacere perché ha smascherato proprio la tipologia di personaggi che loro avrebbero mandato al governo quindi quando poi sento dire Trump è un pazzo un fascista un criminale un nazista riporterà i campi di concentramento negli Stati Uniti sentire stronzate veramente più becero negli ultimi io mi chiedo se invece questo non sarebbe accaduto a sto punto con personaggi di storia di questa levatura qui cioè oggettivamente il programma Dem qual era? io non ho sentito una sola una sola proposta rilevante fatta da quella frangia lì no ma era Trump è brutto Trump è brutto questo era il programma punto basta fine è chiuso scusa e poi trovo anche uno spunto di riflessione ultimamente da una decina d'anni a sta parte più o meno il mondo dello spettacolo e in particolare il mondo della musica è stato dominato da una serie di personaggi che sono emersi senza in realtà un merito apparente faccio un esempio non me ne voglia taylor swift però taylor swift oggettivamente non è un talento musicale è un personaggio che inquadrato nel suo genere altro perché sicuramente fa musica adatta al genere che fa ma non è il nuovo michael jackson non è il nuovo steven tyler stiamo parlando di un personaggio totalmente nella norma che fa dei numeri così grandi che non sono giustificati dal talento com'è possibile sta cosa è semplice quelli sono dei megafoni che vengono spinti sin dall'inizio da quella gente lì perché poi quando è arrivato il momento di pagare il conto il conto come lo paghi devi dire i tuoi follower vota a me è un modo furbo per prendere voti da persone che altrimenti non avrebbero mai preso in considerazione neanche l'idea di votare perché non sono temi che gli interessano ma se glielo dice Taylor Swift allora ci vanno è geniale e allo stesso tempo è anche pericoloso perché questo in realtà distrugge tutto il mondo dell'arte ma se lo estendiamo in tutte le professioni finisce per diventare soltanto un megafono politico senza contare che non dà neanche rispetto all'intelligenza delle persone esatto e poi non viene ascoltato e se ci pensate tutti questi grandi proclami gente me ne vado se vince Trump non sono stati ascoltati c'è stata una valanga di personaggi c'è stata una valanga di personaggi che ha fatto endorsement per Kamala Harris è il motivo nella maggior parte di casa magari non in tutti ma nella maggior parte è questo pensa se non c'erano pensa un po' ecco ha avuto l'esatto contrario come risultato quindi è giusta infatti l'osservazione secondo me è molto giusto ma infatti adesso ci torniamo anche volevo solo chiedere ad Alessandro se facciamo l'ultimo giro c'è una cosa che mi incuriosisce cioè la distanza che si è creata in qualche modo che per me è un po' una novità non me ne ricordo a memoria di questi momenti di grande separazione tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra cioè l'Inghilterra è andata in una direzione che poi adesso si stiano pentendo noi non lo sappiamo non lo so non sono molto informata su questo però questa sorta di gemellaggio storico è andata un po' a farsi benedire con l'elezione di Trump tu cosa ne pensi? C'hai riflettuto su questo? Cosa credi? Chi pagherà le conseguenze di questa cosa? Cioè in termini anche di prestigio? Ma guarda Katia secondo me anche qui in questo caso io tenderei un po' a scindere la questione della propaganda quindi quello che viene detto quello che viene appunto passato e poi quella che è la realtà nel senso che sicuramente il primo ministro Starmer non è contento della vittoria di Trump su questo non ci piove sarebbe andato molto più d'accordo con la Harris però sempre per quanto riguarda le questioni di linee strategiche di politica estera credo che comunque la Gran Bretagna e gli Stati Uniti abbiano dei punti in comune certamente e che non si potranno sfaldare al di là di qualche discussione che ci potrà essere anche tra presidenti però non credo che le grandi linee strategiche di politica estera cambieranno o che comunque ci sarà una rottura fra Gran Bretagna e Stati Uniti ecco anche perché la Gran Bretagna dopo la Brexit se perdesse anche gli Stati Uniti diventerebbe la piccola Bretagna invece della Gran Bretagna quindi insomma ecco io sono convinto e comunque su quello che ho studiato e per l'esperienza che ho eccetera che le grandi linee di politica estera di paesi comunque sovrani e quindi purtroppo questo è un riferimento ad altri paesi come il nostro che non sono completamente sovrani e concordo con quello che era stato detto precedentemente i paesi sovrani nelle grandi linee di politica estera sono tendenzialmente uniti e le seguono nonostante tutto perché fanno i propri interessi e i propri interessi non possono cambiare da un'elezione all'altra quindi insomma tutto cambia ma nulla cambia alla fine un po' gattopardeschi anche la perfida albione insomma resta un po' sempre quella che è però c'era un titolo non mi ricordo più se ne l'ha finita un po' se so che mi ha impressionato Massimo e diceva così primo colpo di Trump o comunque qualcosa del genere primo risultato dell'elezione di Trump crisi politica in Germania allora ma no addirittura ho letto ieri è già la crisi probabilmente c'era già una crisi politica in Germania allora il punto qual è il punto è che probabilmente qui c'è una crisi generale ancora e lo ribadisco perché io credo che sia veramente così e sia forse irreversibile ormai in un certo mondo libera di sinistra chiamatelo come volete che evidentemente si incarna perfettamente nelle elezioni anticipare che ci saranno probabilmente in Germania con l'inizio del 2025 cioè questi non riescono a stare neanche insieme voglio dire ma anche qui in Italia Conte non sopporta Renzi Renzi non sopporta non si sa bene chi la Schlein lì in mezzo morale della favola questi non riescono a mettere insieme neanche una coalizione non riescono a essere convincenti la gente non li ascolta più non ascolta più non legge più i media che sono quasi tutti orientati a sinistra insomma un disastro quindi tu cosa pensi di questo Massimo questa crisi qui la vedo solo io c'è non c'è è un peccato non è un peccato perché magari insomma il mondo è anche giusto che ci siano contrapposizioni politiche ma qua qui c'è una parte di mondo occidentale che si sta completamente sfaldando allora che ci sia una crisi di queste elite diciamo di sinistra è sicuro perché si sono completamente staccate dai bisogni del popolo quindi loro praticamente lottano solo per i diritti cosiddetti civili parlano solo di LGBT QSPQR più eccetera e se ne fregano assolutamente di quelli che sono i problemi reali della gente ok quindi c'è sicuramente una crisi di questo tipo e probabilmente ora le cose stanno venendo a galla perché stanno venendo a galla perché la crisi economica sta cominciando a mordere ok e in Germania non è che la crisi è data dalle elezioni di Trump la crisi è data dal fatto che hanno una crisi economica che sta mordendo e infatti Scholz e il ministro hanno praticamente discusso del fatto che mentre Scholz voleva un po' venissero allentati i cordoni della borsa il ministro delle finanze invece era sempre per l'austerity senza sé e senza mano quindi adesso la UE non solo la Germania ma tutta la UE si troverà a dover prendere delle decisioni importanti io spero che prendano le decisioni che portino verso uno sfaldamento completo della UE perché se facessero le cose in maniera logica in questo momento dovrebbero per mantenere il potere per mantenere questa gabbia fare per esempio il debito comune perché non è pensabile con degli USA che sicuramente penseranno a se stessi ancora ancora di più di prima con Cina e Russia e BRICS al seguito che investiranno moltissimo per prendere quote di mercato la UE rimanga qui sempre a fare austerity senza fare investimenti di nessun tipo senza fare politiche chinesiane le politiche chinesiane sono quelle che hanno salvato il mondo dalla crisi del 29 quindi qua noi come UE stiamo rischiando una crisi del 29 perciò o decidono di unirsi veramente quindi unire i soldini ma bisogna vedere se tedeschi vogliono non credo proprio io spero chiaramente nel contrario spero che sia ognuno per sé e a quel punto le politiche chinesiane si spera che chi sarà il governo in quel momento decida di farle qua in Italia il rischio che vedo il rischio che pavento e che mi spaventano un poco è che invece questi decidano per sopravvivere loro per sopravvivere il carrozzone UE di mettersi praticamente di guzzo buono e di fare per esempio il debito comune io spero veramente di no perché se no siamo finiti perché poi il debito comune che cosa vorrebbe dire vorrebbe dire che se devi acquistare qualcosa lo acquisterai dalle industrie tedesche perché non siamo tutti alla pari si metteranno d'accordo tedeschi e francesi per farci ancora più fuori no ma infatti io spero che insomma ci sia un risveglio di buon senso ma chiudiamo con una nota secondo me un po' divertente Gia Paolo ma tu te lo sei immaginato un incontro a parte il fatto che Trump secondo me vuole parlare con i singoli stati però forse mi sbaglierò ma al di là di questo tu te lo immagini un incontro Trump von der Leyen cioè ma onestamente no nel senso che penso che non ci siano i presupposti perché gente giusto per riallacciarmi anche a quello che diceva Massimo c'è gente che di fronte ai problemi continua sulla strada dell'austerity e gente che non merita neanche un colloquio ma neanche informale cioè questi sono dei pazzi criminali che purtroppo hanno l'eleve del potere in mano in questo momento e quindi c'è poco da fare però no non mi aspetto non mi aspetto nulla di questo mi aspetto invece che ci sia un tentativo di negoziazione tra Trump e il blocco dei Bricks non so se nella figura di Putin ma sicuramente con i Bricks in qualche modo verranno non allo scontro ma al cercare di spartirsi la fetta economica del mondo perché sanno negli Stati Uniti che ormai il mondo non è più dollarocentrico questa tendenza in mano ai dem sarebbe stata esasperata anno dopo anno fino a un punto di non ritorno in questo momento è probabile che con una politica industriale fatta in un certo modo con degli investimenti keynesiani e quindi un ritorno alla domanda interna per gli Stati Uniti molto probabilmente gli Stati Uniti potrebbero nuovamente riconsolidarsi come potenza economica magari con un approccio economico un po' diverso non voglio esagerare però potrebbe anche essere un'opportunità per l'Europa perché in questa condizione qua se Trump mettesse effettivamente dei tazzi l'Europa a questo punto sarebbe di fronte a un video o il ritorno alle sovranità nazionali oppure agli Stati Uniti d'Europa preferire la prima sinceramente per tutta una serie di motivi in qualche modo il mondo si sta orientando al sovranismo c'è poco da fare perché è l'unica strada che funziona sostanzialmente l'abbiamo sempre saputo non significa autarchia significa semplicemente curare la domanda interna e poi avere dei rapporti bilaterali con gli Stati per sistemare le cose che al proprio interno necessitano di un aiuto che è quello che è sempre stato fatto nello scorso secolo che ha sempre portato la prosperità e il progresso sinceramente altre strade non ne vedo però questa per noi potrebbe essere un'opportunità e se non venisse colta sarebbe l'ennesimo peccato di cui si sta macchiando l'Europa perché tu giustamente hai citato la Germania prima dieci anni fa in Cina le macchine erano tutte tedesche oggi le macchine in Cina sono tutte cinesi quella è la crisi della Germania perché è un paese che ha puntato tutta la sua economia sull'export dal punto che ad esempio nel vocabolario tedesco esiste la parola exportmeister che significa proprio il campione delle esportazioni che è una parola che non esiste in nessun altro in nessun'altra lingua europea significa proprio che c'è una sorta di retaggio mentale di questo cioè una mercantilista che in qualche modo ormai ha fatto il suo tempo è figlia è stata figlia del calvinismo tutta una serie di ideologie del passato ma adesso sta portando la realtà dei fatti cioè che non funziona funziona per un periodo limitato poi quando non c'è più la convergenza economica e se soffre se va in crisi la Germania va in crisi il suo indotto come l'Italia l'Italia il 30% delle importazioni tecnologiche della Germania vengono dall'Italia quindi se va in crisi la Germania andiamo in crisi anche noi e quindi è una catena non immettendo denaro a profusione come dovrebbe fare l'Unione Europea non è che c'è altra chance o si esce o si esce io come Massimo adesso di Alessandro non lo so ma noi lo speriamo che si esca da questa gabbia un po' così io l'unica cosa e qui chiudo e vi ringrazio io vi immagino la faccia della Wonderline il giorno in cui dovesse incontrare Trump e lui le dice sai che c'è a me della guerra in Ucraina frega zero dopo una lira basta arrangiatevi è questa che ha fatto tutti i programmi del universo proclami siamo con voi che si tratta lì da sola a dover reggere questo gioco con gli stati che le dicono di cosa stiamo parlando cioè io questo castello qui lo voglio vedere veramente distrutto e spero che finalmente metta in atto questa cosa questo smantellamento di queste leadership nulle zero è tutto dannoso e per tutti noi va bene io vi ringrazio e a questo punto alla prossima è stata come al solito una bellissima puntata grazie a tutti grazie mille grazie ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti